E' questa registrazione anche da TVK. 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 Cambio superiore, il scelpatolo, il campo, la vita è lontana. Grazie a tutti. 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 15 secondi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. . Grazie a tutti. a tutti. vai a tutti. 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 Buon anno, 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 buon anno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.